Ciao 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 a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video Mi sto sventagliando Con il ventaglio perché veramente non se ne può più Vi sarete anche stancati di sentire ripetere da chiunque al mondo Che caldo, che caldo, che caldo, insopportabile Voglio l'inverno, voglio il cappotto, voglio la cioccolata calda I maglioni di Kashmir In effetti la situazione sta diventando veramente pesante In tutta Europa ormai ci stiamo avviando a diventare un continente tropicale Storie non ce ne sono Io non so come si può contrastare questo andazzo Questo ormai quasi inevitabile fine che stiamo raggiungendo Comunque oggi siamo andati a cercare un po' di frescura e l'abbiamo trovata Però per io il sontino è una nostra amica nonché vicina di casa E la chira naturalmente perché non può mancare la chira con noi Si va a cercare la frescura, si va a cercare la frescura in montagna In montagna dove possibilmente ci siano anche dei corsi d'acqua, dei torrenti Con l'acqua bella fredda, fredda, fredda Dove si possono pucciare i piedi e rinfrescarsi un po' Tutto ciò però costa fatica Costa fatica nel senso che per raggiungere la nostra meta Che era un rifugio a 1300 metri Noi siamo arrivati a un paese che era circa 900 orotti metri Il dislivello di 400 metri Detto così sembra una ridicolaggine In realtà il sentiero che veniva descritto come facile Adatto anche ai bambini C'erano dei punti veramente ripidi Poi con dei gradoni di pietra Io ho il ginocchio ancora non proprio perfettamente a posto È stata veramente dura E comunque anche se eravamo in alto, eravamo in quota Però il caldo lo si sentiva comunque Nonostante per arrivare a questo rifugio Il percorso fosse tutto in mezzo al bosco Veramente bello Bello, bello La natura intorno, spettacolare davvero E in più, in mezzo al bosco E costeggiando un bellissimo torrente Che a tratti formava delle cascatelle Con delle specie di piscine naturali Delle vasche di acqua verde e azzurra Veramente meravigliose Solo il rumore, no? Poi il rumore del ruscello, dell'acqua che scorre È veramente rilassante Però quando stai salendo su un sentiero ripido In piedi così C'è poco da rilassarsi Comunque alla fine siamo arrivati Siamo arrivati a rifugio Avevamo prenotato Avevamo telefonato per prenotare Un rifugio molto spartano Un vero rifugio di montagna I rifugi in Trentino Dove siamo stati a fare le nostre vacanze Erano quasi degli hotel Più che dei rifugi Dei ristoranti veri e propri Belli e per carità caratteristici Però a cominciare dai prezzi Dei veri e propri ristoranti Siamo stati benissimo Comunque sia chiaro Questo invece è proprio un rifugio Di una volta Già hanno razionato l'acqua lì E infatti la possibilità di usare il bagno Era solo in una certa fascia oraria Cioè quella del pranzo È riservata solo ai clienti Del rifugio Quelli che si fermavano a pranzo Come noi appunto E voi direte Gli altri che magari si sono portati panini Beh lì è tutto bagno Il bosco è tutto bagno Tutto perfetto Comunque niente abbiamo mangiato Abbiamo mangiato su un bel tavolone di legno All'esterno all'ombra Una rietta Una bella rietta Tant'è che io e la mia amica Ci siamo infilate una camicia Sopra la canotta Perché l'aria era veramente frescolina Una goduria Dopo aver partito tanto caldo Poi dopo mangiato Abbiamo aspettato un po' E poi siamo scesi Poco lì sotto Il rifugio Dove c'era appunto il torrente Che scorreva Che formava delle piccole pozze E siamo entrati con i piedi Con le gambe E strano a dirsi Anche la Kira Che ha sempre avuto un po' Paura dell'acqua Si bagnava proprio appena Appena le zampine davanti E invece ha sguazzato Anche lei Faceva le corse dentro Si è divertita tantissimo È stato veramente Bello Rinfrescante Poi il ritorno Al ritorno Il scendere È comunque impegnativo Perché quando La discesa è molto ripida Bisogna fare molta attenzione Io mi sono messa La mia ginocchiera Per sicurezza Perché sapete Che per le ginocchia È molto più Difficoltoso È più pericoloso Tra virgolette Lo scendere Che il salire Però è andato tutto bene Siamo scesi bene Siamo arrivati alla macchina Siamo saliti in macchina E abbiamo visto Che il termostato Termostato Si chiama Termometro Vabbè insomma Segnava 43 gradi Perché era Un po' all'ombra Ma era quasi tutto Al sole l'auto Vabbè quindi Abbiamo acceso a manetta Il condizionatore Dell'auto E siamo ritornati Ci vogliono circa 50 minuti Per arrivare a casa nostra Dal paese Dove eravamo Per fare la nostra ascesa E Arrivati a casa In macchina Quindi Un bel frescolino Non troppo Perché sapete Che non ci deve essere Troppa differenza Tra La temperatura interna Climatizzata Dell'auto E quella esterna Non ci devono essere Troppi gradi di differenza Però comunque Stavamo bene Belli e freschi E abbiamo visto Che la temperatura Appena arrivati qua In paese A casa Era di 36 gradi 36 o 37 Mi sembra 37 Insomma Scendere dall'auto Abbiamo avuto No shock Veramente Vabbè Comunque Doccia subito Anche perché Eravamo Conci Perché seduti Nell'erba Entrati nell'acqua La chira Che ci schizzava Insomma Avevamo tutti Bisogno Di una bella Doccia Compresa la chira Ha fatto il bagnetto Anche lei E poi Ci siamo stesi Un pochino Sul lettone Io e il sontino Ci siamo addormentati Tutti e due Perché eravamo Veramente Stanchissime Un po' Il caldo Un po' Comunque la fatica A salire e scendere Però devo dire Che ne valsa la pena E adesso Vi lascio Un po' Di foto E un paio Di piccoli video Dove Vedrete appunto Il posto Dove siamo stati Davvero Ne valsa la pena Ecco Torno a dire È stato Molto Molto Ma veramente Molto Faticoso Per via del caldo Ma anche Ripeto Le salite Così ripide Mi fanno venire Subito il fiatone Però ce l'ho fatta Sono contenta Di averce l'ha fatta Ci abbiamo messo Quasi due ore Per salire Però Tutto bene E adesso Vi lascio Qualche foto E Delle piccolissime Clip Io vi ringrazio Per avermi seguito Un abbraccio Un sorriso E al prossimo video Seguo una foto Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501